Ultimate Wellness Tonic Man è un integratore tonico energetico a base di arginine ed estratti vegetali per favorire la virilità e migliorare le prestazioni maschili. È indicato per donare vitalità e aumentare i livelli di energia nell'uomo, aumentare il desiderio sessuale, migliorare le prestazioni. La sua formula contiene colius for scoli che favorisce la funzionalità dell'apparato cardiovascolare, l'estratto secco di ginkgo biloba e di maca che favoriscono la circolazione e l'afflusso di sangue nell'apparato maschile, l'estratto secco di pino e selenio antiossidanti e vitamina B6 che regola l'attività ormonale e l'arginina amminoacido precursore della creatina fondamentale nella contrazione muscolare. Come si assume? 4 compresse al giorno, 2 a colazione e 2 a metà pomeriggio oppure a cena. Avvertenze, non assumere ingravidanze in allattamento, consultare il proprio medico in caso di terapia con farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrilici.